Mi sono trovato subito bene, soprattutto con Samu e con Francesco. Sono stati subito accoglienti e amorevoli. Mi sono trovato bene e anche con le ragazze, ovviamente, che erano sullo yacht. Guarda, guarda, ragazzi. Vedo che ci fermiamo in un posto che non capivo perché fermarci là. Non aveva un senso fermarci là. Sì, ragazzi. Qual quadra non cosa. Come puzza? C'è qualcosa di strano. Perché viene verso di noi? Non lo so. Vediamo da lontano un ragazzo che arriva in gondola, già arriva lì con i remi. Direttamente da Venice Beach. Ma chi è questo? Ciao, bello. Samuele. Gianmarco, piacere. Ciao, ragazzi. Ciao, sono Gianmarco. Stasera mi prego. Te capiamo, te capiamo. Abbiamo conosciuto anche il nostro nuovo coinquilino, Gianmarco, terzo Mino Michelin. Io voglio una birra. Tu lo chiami? Lui gira tutto il corpo. Gira, tutto il corpo, gira. Ma sei tingle, vero? Ovvio. Sì, sì, sì. Tu? Sì. Chiaro. Mi sono trovato subito bene, soprattutto con Samu e con Francesco. Sono stati subito accoglienti e amorevoli. Mi sono trovato bene e anche con le ragazze, ovviamente, che erano sullo yacht. Lo trovo intelligente. Ma una di quelle intelligenze che si vede subito. La barca era qualcosa di incredibile perché, devo essere sincero, non sono mai salito su uno yacht del genere e è stata veramente una figata.